questo momento santo cielo che derapata madonna mia ci è mancato poco dottor Maruki questo va ben oltre un risveglio del cuore sarà ancora vivo pare che non sia un problema mi spiace ma non posso ancora ammettere la sconfitta per favore smettila mi spiace sai che non posso farlo è stato il mondo stesso a scegliermi esaudirò questo desiderio è una mia responsabilità via il bastone e prende la sua fiaccola ma che diavolo ma sta il tesoro ha evoluto la sua persona grazie al suo tesoro è un pensiero bellissimo questo quello che è appena successo possedere una persona e possedere anche un tesoro senti che bella la musica il risveglio di un gigante ma sì abbiamo sconfitto anche un dio ce la possiamo fare lo so bene che non ti interessa non può finire così Adam Katmond guidaci tutti verso la nostra realtà ideale si sbaglia plasmeremo noi la realtà già non permetteremo che finisca in nessun altro modo persona porca troia il danno su Marugi è ridotto di molto e possiamo colpire solo lui wow wow debilitazione super energia ho i brividi ho i brividi non so che farti fare boh fai la guardia per ora e tu passo del coraggio è vero che stupido al prossimo giro so cosa far fare a Dakechi male dolore male 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 qua eh wow allora andiamo di cadenza Neo e ora inizia il combattimento Marugi è il momento inferno di fuoco 760 non male lama della ribellione ma Kogan Adam Kadmon dammi la tua forza ma chissà perché lo immaginavo che ti saresti ricaricato la vita bene tocca ancora a me lo sai vero frecce splendenti super energia ok ci ti faccio usare questo turno dove sei dove sei dove sono i fagioli di Aru vediamo ma come ma perché in alcuni combattimenti non me li fanno usare sti oggetti vabbè a sto punto fai di nuovo debilitazione perché io volevo far fare questo su mir in realtà in maschera volevo vedere l'attacco ancora non riesco a farcela mi spiace Marugi e la mia realtà è proprio qui sotto i miei occhi non mi spiace non mi spiace non mi spiace i miei occhi veri e invece sei pronto a sacrificare tutto lo sappiamo benissimo invece è pronto a sacrificare tutto se stesso Marugi sta per fondersi con la sua stessa persona io sono te tu sei me e dovevi correre allora me lo mangio guarda questo momento cazzo dritto nel collo nanji nanji wanaru questo momento full power ovviamente tutto questo è scriptatissimo gente oh no è tutto scriptato ma quanto è bello questo potere è l'origine è la mia destinazione sarò la luce che guida l'umanità ma non ci tireremo comunque indietro ti batteremo e torneremo alla nostra realtà questo è lo spirito giusto forza finiamola qui cadenza neo super energia non ci serve perché ve l'ho già detto che non ci serve ma c'è una cosa che devo provare a fare assolutamente tu proviamo a debilitarlo che tra l'altro è sempre adam and cadmon ma guardate il quadratino che continua a spostarsi da una lettera all'altra bellissimo bellissimo ce l'ho lo spray supremo giusto per controllare credo che neanche quello sia utilizzabile ah no quello posso perfetto e allora proviamo così ragazzi voi tocca difendervi mi dispiace dove sei devo provare assolutamente verità letali ok sapevo benissimo che sarebbe andata così ma dovevo assolutamente provare non posso fallire non posso deludervi e questo è il motivo per cui prendevo Maria se continua così cercherò un modo per tirarvi fuori da questa situazione resistete ancora qualche secondo ve l'ho detto è tutto scriptato qui non c'è nulla che possiamo fare in questo momento assolutamente nulla la mia è solo goliardia il voler cercare di attaccarlo per nulla oggetto vediamo spray supremo proviamo anche all'altro no non ci serve è ovvio che non succede nulla quindi dove sei elisir del padre usiamolo non avremo altre occasioni per farlo d'altronde debilitazione tu passo del coraggio vediamo se riusciamo in qualche modo a tirare su qualcosa ora lui si carica dove sei vediamo ma si dai visto che questo scontro non appari e sarebbe stato troppo bello fuoco di soppressione quanto sarebbe bello vedere Adam Kadmon contro Satanael mamma mia facciamo super energia non c'è un vero motivo ma voglio ovviamente giocarmela al meglio possibile difendiamoci e ora ci attacca è giunto il momento di porre fino al conflitto ci sono ho scoperto la sua debolezza Joker la prossima volta che attacca è la tua occasione allora non c'era Ci pensiamo noi, tranquillo Mamma mia Sono riusciti a contenere l'attacco Bellissimo tutto, ciao Nobbi, dov'è andare? Nobbi, l'attacco non è nulla Nobbi, dov'è andare? Nobbi, Joker! Joker! We can fly in the sky Che bello, cazzo OVARO Dai, sono andato a tempo con la musica, cazzo, sì Mamma mia, che soddisfazione Madonna Perché? Ho sacrificato ogni cosa Ho dedicato tutto me stesso al mio sogno Eppure, perché? Stai fuggendo dal passato Sto Fuggendo dal... Hai fatto centro È vero che ho voltato le spalle alla realtà originaria Ma che male c'è? Quando inizi a schiacciarti e farsi troppo dolorosa Chiunque merita una via di fuga In tutta onestà Trarrebbero vantaggio dalla sua realtà? Ma che ne è di coloro che vogliono sfidare il mondo da soli? È giusto privarli di una simile opportunità Ciò che dice, dottor Maruki, penso abbia un qualche fondo di verità Alcuni fungo dal loro dolore Se grappano a una realtà alternativa Come facevo io Ma la conoscenza e la forza che ho acquisito attraverso quel dolore Sono ancora più preziose per me E non permetterò a nessuno di sottrarmele ancora Scena animata bellina Tra l'altro Che bello vederlo animato così però Maruki Che bello che in questo momento Tutti i pezzi dell'anime del gioco Si stanno fondendo assieme in un unico pezzo Tutto si unisce in questo momento Sta perdendo se stesso Mona Il monacottero! Aleee! Oh Miau Poverino Akeji Chi è che sta guidando? Penso Morgana direttamente in questo momento Ed eccolo qui Maruki ancora non si è arreso Ha deciso di andare da solo Mi spiace interrompere così il vostro volo Ma questo posto è spacciato Insieme alla realtà che ho sempre sognato Ho perso Anche se tentassi di combattere ancora Non ho dubbi che perderei di nuovo Quindi lo so che questo Sembrerà piuttosto stupido Mi sono tenuto dentro tutto questo così a lungo Nascondendolo a me stesso Quindi per favore Aiutami a soffocare fino all'ultimo dei miei rimpianti Sei il solo a cui posso chiedere aiuto Sono qui per te È finita Niente più persone La scomparsa del mio palazzo E l'intero metaverso È vicina Pare che nessuno di noi Possa più evocare la sua persona Cominciamo Ho i brevi di Cristo Ho sacrificato tutto Tutto Allora perché? Battaglia cazzottoni cazzo Perché Rumi è dovuta? Che male Maruki Una realtà in cui Nessuno deve soffrire Pugno Di Joker Poveraccio Cioè lui non è cattivo Lo sappiamo fin dall'inizio È brutto che lui debba soffrire così E questa scena Questa scena Guardatela È la stessa scena Quando scompaiono i ladri fantasma Solo che qua non sta scomparendo lui Sta scomparendo la sua realtà La musica dei crediti finali Guardatela Sì Guardate 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 Torneremo indietro assieme 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 Anche se la realtà è stata distorta totalmente Le tue azioni l'hanno riportata come dovrebbe essere La realtà è stata ristabilita? È corretto Il tempo non può tornare indietro Ma ogni evento passato tornerà a ciò che sarebbe dovuto essere Ciò che sarebbe dovuto essere Te lo chiederò di nuovo Vorrei che ti costituissi alla polizia Di tua spontanea volontà Sarò io a tracciare il mio treccorso Mi rifiuto di accettare una realtà creata da altri Sotto il loro gioco per il resto dei miei giorni Che ne sarà di Akechi? Tutto tornerà come deve essere Tutto Nessuna eccezione Hai iniziato a pentirti? No, ne sono ancora certo Capisco Scegliere un tale percorso Non deve essere stato facile Per questo È il nostro rispetto È la nostra gratitudine Phoenix Star Vuoi salvare i tuoi progressi? Scegliere un tale percorso